Il concerto è iniziato, i volumi sul palco sono accettabili e nessuno suona con i tappi nelle orecchie. Il concerto è iniziato, i volumi sul palco sono accettabili e nessuno suona con i tappi nelle orecchie. Il concerto è iniziato, i volumi sul palco sono accettabili e nessuno suona con i tappi nelle orecchie. Il concerto è iniziato, i volumi sul palco sono accettabili e nessuno suona con i tappi nelle orecchie. Il concerto è iniziato, i volumi sul palco sono accettabili e nessuno suona con i tappi nelle orecchie. Il concerto è iniziato, i volumi sul palco sono accettabili e nessuno suona con i tappi nelle orecchie. Il concerto è iniziato, i volumi sul palco sono accettabili e nessuno suona con i tappi nelle orecchie. Il concerto è iniziato, i volumi sul palco sono accettabili e nessuno suona con i tappi nelle orecchie. Il concerto è iniziato, i volumi sul palco sono accettabili e nessuno suona con i tappi nelle orecchie. Il concerto è iniziato, i volumi sul palco sono accettabili e nessuno suona con i tappi nelle orecchie. Il concerto è iniziato, i volumi sul palco sono accettabili e nessuno suona con i tappi nelle orecchie. Grazie a tutti